Le 10 tecniche di miglioramento personale più diffuse al mondo Ciao a tutti! Oggi condividerò con voi le 10 tecniche di miglioramento personale più diffuse al mondo. Queste strategie comprovate vi aiuteranno a raggiungere risultati straordinari nella vostra vita. Forse obiettivi smart. Impostate obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporizzati. Visualizzazione creativa. Utilizzate la visualizzazione per creare una mappa mentale vincente. Pianificazione strategica. Creare un piano d'azione dettagliato per raggiungere gli obiettivi. Gestione del tempo. Organizzate il tempo per massimizzare la produttività e ridurre lo stress. Pensiero positivo. Utilizzate il potere del pensiero positivo per aprire nuove possibilità. Autodisciplina. Sviluppate la volontà e l'autodisciplina per superare gli ostacoli. Comunicazione efficace. Migliorate la comunicazione verbale e non verbale per influenzare positivamente gli altri. Gestione dello stress. Gestite lo stress in modo sano ed efficace per mantenere il benessere. Crescita personale continua. Imparate in modo costante per spingervi verso il successo. Mindfulness e meditazione. Coltivate la consapevolezza di sé attraverso la mindfulness e la meditazione. Queste tecniche di miglioramento personale possono fare una differenza significativa nella vostra vita. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti dedicati all'autosviluppo e al successo personale. Lasciate un commento con la vostra tecnica preferita o condividete la vostra esperienza di miglioramento personale. Vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo nel prossimo video. La chiave per il successo personale è l'impegno costante nel miglioramento di se stessi. Non arrendetevi mai e sarete destinati a raggiungere grandi risultati. Iscrivetevi al nostro canale per altri contenuti motivazionali e strategie di successo personale. Prima di chiudere date un'occhiata al libro, Il massimo esperto di marketing, su Amazon. Grazie ancora per averci seguito e ci vediamo presto.